Radio Mambo City, Radio Mambo 106 e 9, siamo pronti con una nuova pillola sociale, siamo in compagnia degli amici di Zenzero, come state? Buonasera, ciao Va bene, allora presentatevi, come ti chiami? Io sono Sara E io sono Matteo Allora, Sara e Matteo, pensate che loro sono fratelli, fratelli nella vita e fratelli negli affari, perché? Sì Hanno tirato su questo ristorante che si chiama Zenzero, che ormai ha quanti anni di storia? Siamo aperti a 12 anni 12 anni? Sì, eravamo abbastanza piccolini quando abbiamo deciso di aprire e ce la stiamo cavando bene Oh, va bene, come nasce l'idea di aprire Zenzero? L'idea di aprire Zenzero nasce perché io sono un cuoco Perfetto Sono un cuoco, appassionato del mio lavoro e piano piano, crescendo negli anni, abbiamo deciso di aprire la nostra attività Che tipo di menù possiamo trovare all'interno di Zenzero? Allora, menù dinamico, menù divertente e menù stagionale Perfetto Quindi piatti gustosi, piatti regionali Perfetto So anche che voi fate un tipo di cucina tradizionale ma allo stesso modo comunque sia innovativa, giusto? Sì La mia cucina, ho detto, è una cucina insomma divertente Insomma, i piatti devono essere gustosi Perfetto Però legati comunque a una tradizione Certo La tradizione per me è fondamentale Però poi il risultato finale, quello deve essere un piatto buono Anche quello è fondamentale Certo Cercare innovazione, cercare comunque dei piatti leggeri, divertenti Dove si trova Zenzero? Datemi l'indirizzo preciso Sì Dove lo possiamo trovare? Allora siamo a Villalba di Guidonia Sì Prezzi economici Da 30, da 28, da 25 Sì E c'è una promozione su questi menu del 10% Uno sconto del 10% Come fate ad ottenere questo sconto? Dovete andare sulla nostra pagina social Cercare la video intervista e commentare social Mambo In modo tale che poi la redazione si metta in contatto con voi E vi dia tutte le indicazioni del caso Per ottenere questa offerta Va bene Io vi ringrazio Grazie a tutti Per essere stati qui con noi Grazie a tutti È stata una piacevole Va bene Va bene Va bene Vi ringrazio ancora Salutiamo gli amici di Zenzero E noi ci sentiamo tra poco con una nuova pillola social Questa è Radio Mambo City Ciao ciao Ciao